L'amministratore delegato dell'Istituto Ospedaliero Eremo di Arco, Sergio Fontana, nei giorni scorsi ha inviato una nota relativa al piano di ampliamento della casa di cura, praticamente ancora fermo. A queste condizioni, se la provincia ci limita le giornate di presenza dei pazienti e il budget, è inutile realizzare nuovi spazi, servizi e posti letto, ha dichiarato. Con queste basi, investire 10 milioni di euro nel progetto di ampliamento diventa praticamente impossibile. Il progetto, che nelle intenzioni vorrebbe potenziare la parte alberghiera con servizi di qualità, con 42 posti letto aggiuntivi, è congelata da tempo sulla carta. La casa di cura è da diversi anni in una sorta di limbo, con l'assessorato alla sanità della provincia che quest'anno è intenzionato a tagliare drasticamente le giornate di presenza delle persone in cura, con ipotesi che vanno anche fino al 27%, che equivale a un valore di circa un milione di euro. Fontana osserva che se la provincia taglia i posti letto per i trentini, sono i pazienti trentini a rimetterci, non quelli fuori provincia. Va aggiunta un'altra preoccupazione. Se la provincia, dice Fontana, tocca i protocolli riabilitativi al ribasso, smantella la riabilitazione in degenza e fa fare in ambulatorio prestazioni e servizi prima erogati in ospedale, allora ci sarà un aggravio per le famiglie che dovranno accollarsi gli spostamenti dei pazienti. Segno evidente, conclude Fontana, di una divaricazione tra quanto eroga il servizio sanitario trentino e quello nazionale e andrà a finire che quello trentino arriverà ad essere di minore qualità.